Com'è il nuovo ponte? Com'è il transito dalla Stralessandra perché già il percorso interessava via Treviso e via Dossena, quest'anno abbiamo deciso che il luogo di partenza e di arrivo dalla Stralessandra saranno i due ponti del Ponte Meia, proprio perché il ragionamento che stava a monte della progettazione del ponte, soprattutto del Ponte Pendonale, era quello di creare una piazza sospesa sul fiume. Abbiamo pensato che non c'è modo migliore di utilizzare una piazza pubblica che ospitare quello che è sicuramente uno dei più grandi momenti di aggregazione e di festa della città che è la Stralessandra. Quindi diciamo che la suggestione è stata quella della Maratona di New York che ha la sua fiumana di gente che attraversa il ponte di Brooklyn e noi abbiamo pensato, beh, un ponte degno di essere valorizzato, adesso in città ce l'abbiamo e quindi la Stralessandra partirà e arriverà di qui e sarà il nostro modo di inaugurare il ponte. Grazie! Grazie.